Povero Ippotommaso, vuole una noce ma non riesce a staccarla dall'albero. Il grande professor Totto ha un'idea. Ecco la super doppia pillola, ma ce n'è solo una. Vediamo se la fortuna ci aiuta a moltiplicarla. Ora bisogna sperimentarli. Un momento, e se l'effetto fosse pericoloso, magari mortale? E se procurasse dei forti dolori? Meglio che la cavia se è Ippotommaso. Ha funzionato! Ha funzionato. Fa funzionato. Fa! Fa! Prima o poi l'effetto doveva cessare Sei sicuro di non aver esagerato? Non prevedevi un simile risultato E' la prossima volta che sperimenti un'invenzione, pensa alle conseguenze Totto